È stata una domenica da dimenticare quella che hanno vissuto i bagnanti di Torbaiani, Camarina di Ardea e Tor San Lorenzo. Il mare, in questo tratto di costa che arriva a sfiorare i 20 chilometri di estensione, sin dalla mattina ha cambiato colore, raggiungendo tinte torbide ed emanando odori nauseabondi. Dopo un veloce sopralluogo, la Capitaneria di Porto ha invitato tutti a uscire rapidamente dall'acqua e a non farvi rientro. Nel giro di poche ore è poi arrivato il temporaneo divieto di balneazione voluto dai sindaci di Ardea e Pomezia. I motivi sono ancora sconosciuti. Quel che è certo, fanno sapere dal comune Pometino, è che non ci sia stato alcun malfunzionamento nei depuratori. Non la pensano così dal movimento Eco Italia Solidale, secondo cui la mancanza di un'adeguata manutenzione ha portato allo sversamento di liquami. Il problema pare abbia iniziato a manifestarsi il giorno prima. Infatti sabato, nell'area interessata, in molti avevano notato un'anomala moria di pesci, dovuta, sostengono alcuni biologi dell'Associazione Creature del Mare, proprio alla pessima salubrità delle acque.